Enrico, Enrico, gritta! Enrico, bravo, bravo Enrico! No, meno male, meno male, chi è il nostro? Enrico, è tua! Ecco, rimessa, ecco, alla palla, Gianluca, atterrato Gianluca! In mezzo a due avversari e c'è la munizione pure per il giocatore locale. Non è così, dai! Andiamo, calma ragazzi, ecco, ah, viena! Il numero 19, questo è il gioco, ecco, c'è il calcio di punizione, calma ragazzi, sì! Gara, vatti affalato, vatti affalato, vatti affalato, vatti affalato Gianluca! Vai! Ma come, facciamo tanto per sembrare la situazione? Se va a sembrare la situazione, tu diventi affalato, c'è! Vatti affalato!